Allora, dopo gara, primo recupero per la United d'Aprilia, dopo le feste qualcosa non sta funzionando, un po' di difficoltà si è visto anche dal risultato finale. Un po' di difficoltà, sì, questo è vero. Proveremo a reagire già dalla prossima. In questa condizione atletica c'è forse qualcosa di testa, ma miglioreremo anche già dalla prossima senza problema. Ecco, forse proprio l'importanza della posta in palio, recuperare quel terreno, vi ha un po' giovato a favore degli avversari? Ma no, non credo, non c'è questo il problema. Cerchiamo sempre di dare il masso. Questa partita ci è andata male, un po' come errori nostri, un po' bravo dall'avversario, è andata così. Bisogna subito recuperare anche perché proprio ravvicinati ci sono sfide molto importanti. Sì, si inizia sabato, poi c'è anche l'altro anticipo importante a Latina e poi addirittura l'altro recupero. Sì, proveremo, cercheremo di fare risultato le altre sfide. Ricordiamo che comunque sia noi non siamo partiti per vincere il titolo, ci stiamo divertendo. Piano piano ci togliamo qualche soddisfazione e speriamo di toglierci anche quella finale. Grazie a tutti.